Anche gli operatori del comparto giustizia navigano in cattive acque a Messina in tutta Italia. Oggi a metà mattinata è stata promossa e si è svolta l'Assemblea Generale a Palazzo Piacentini sulle condizioni precarie del personale che risulta impiegato agli uffici del Tribunale. Ad organizzarla la triplice compatta CGL Cisle Will, certe attività burocratiche che hanno a che fare con la legalità e la libertà dei cittadini non possono sostare nelle scrivanie della pubblica amministrazione perché c'è carenza di organico o impossibilità di crescita professionale. Il passaggio di qualifica viene impedito causando rallentamenti nelle funzioni dei dipendenti. L'Assemblea di oggi che in contemporanea si tiene appunto tutte le sei giudiziarie d'Italia indetta da CGL Cisle Will vuole essere un punto di partenza in un certo punto di arrivo per dare voce ai lavoratori giudiziari sulle loro precarie situazioni che si protagono da decenni. Ovviamente il punto focale della nostra mobilizzazione è la riforma della giustizia presentata dal Ministro nel 2014 e soprattutto sul punto 12 dove il Ministro si era ripromesso di rivedere le piante organiche e di dare corso finalmente ai percorsi di riqualificazione del personale giudiziario fermi purtroppo da ben vent'anni, perdendo ovviamente chance economiche non indifferenti, di carriera, personale che aggiungo demotivato anche per gli attuali appunto aumenti dei carichi di lavoro a seguito anche della riforma della geografia giudiziaria. Sono state chiuse tutte le sedi distaccate ai tribunali e conseguentemente anche ai giudici pace con assorbimento di tutti i carichi di lavoro, di quelle sedi chiuse senza alcun aumento del personale giudiziario.